segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te però ecco non non c'è questo tutto questo non è successo esatto quella è una forma di esibizionismo un po tardo nel caso italiano dove esattamente il senso dello stato non è molto diffuso il gossip è invece molto diffuso credo però che queste proteste della signora presidente del consiglio siano anche un modo per sviare dalla discussione sulle cose serie sulle cose politiche dato che finora le cose non stanno andando molto brillantemente e soprattutto dato che ce ne attendono di molto dure penso per esempio alla questione del patto di stabilità che deciderà del nostro futuro economico per un po di tempo è meglio parlare anche se vogliamo della vita privata e poi eventualmente lamentarsi di questo perché se andiamo invece ad analizzare in profondità le questioni serie le questioni che ci toccano tutti allora forse il bilancio è meno brillante quindi sono tutte delle questioni di distrazione manovre di distrazione di massa